Carlotta, amore, voglio dirti che mi dispiace essermen andato così a casa, però tu lo sai, questo è il mio lavoro, sapevi che ero quando mi sposato, combatto per i miei ideali, lotto anche per voi, per un futuro migliore. Fammi un favore, dai un bacio alle bambine da parte mia, di loro che papà torna presto e che è andato a sistemare ciò che doveva essere fatto ormai da tempo.